partiti Silsetter per un attimo in vantaggio avendo all'interno Costantinus che poi gradatamente lo appariglia e passa a condurre al suo esterno rimane Silsetter poi per linee interne chiamami boss con vicino Otretepe Xeres quindi zona Cesarini incantatrice ed in coda Cadabration Frankbit Cavalli ora lungo la retta opposta delle tribune con Costantinus che si è assestato al comando Silsetter in seconda posizione avendo all'interno chiamami boss quindi Xeres che si affaccia in quarta avendo all'interno Otretepe quindi zona Cesarini Cadabration incantatrice e in coda a circa 6-7 lunghezze in segue Frankbit lungo la curva non avvengono cambiamenti e si mantiene sempre in vantaggio Costantinus nei confronti di Silsetter quindi segue chiamami boss con vicino Xeres Otretepe ancora zona Cesarini incantatrice in coda Frankbit siamo in retta di arrivo con Costantinus che si impegna a centropista in leggero vantaggio su chiamami boss più all'esterno Silsetter per linee interne cerca di avanzare Otretepe più a centropista invece Xeres con a largo Cadabration siamo a 300 dal palo con Costantinus sotto la minaccia esterna di Otretepe poi all'esterno Xeres e Cadabration nel tratto finale Costantinus attaccato a fondo da Otretepe che sta passando nel finale si mantiene in vantaggio Otretepe nei confronti di Costantinus poi Cadabration e Xeres 219 Corrigio 3 3 5 2 4 Grazie a tutti.